Infatti la prima domanda è questa, se lo potrebbe fare un elettore, c'era bisogno di un'altra lista a sinistra? Diciamo che c'era bisogno di una sinistra in Italia, cosa che finora non è stata, anche perché se andiamo a vedere il programma e quanto hanno fatto ad oggi quelli che si sono spacciati per sinistra, hanno fatto delle politiche che non si possono assolutamente definire tali. Noi abbiamo delle soglie di povertà assoluta e relative enormi nel nostro paese, abbiamo avuto una crisi che comunque ha colpito il 95% delle famiglie e quindi sì, c'era assolutamente bisogno di qualcuno che si preoccupasse anche degli ultimi. Ci sono gli ultimi decreti che sono veramente qualcosa che è stato definito una forma di razzismo istituzionale dal rapporto globale dei diritti umani, in cui una sorta di caccia alla povertà. Viviamo in un paese in cui le persone disoccupate e povere devono sentirsi in colpa del loro Stato, quando in realtà abbiamo un welfare sul quale non si investe.